Ancora una volta la città di Favara dimostra la valenza dei suoi cittadini che nonostante le proprie capacità spesso però sono costretti ad operare in altre regioni d'Italia. Stiamo parlando del giovane Antonio Mignemi che per conto dell'opificio delle Pietre Dure di Firenze ha fatto parte dell'equip che ha portato a termine i lavori di restauro della banderuola che sovrasta la torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio. L'opificio delle Pietre Dure è un prestigioso istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali le cui attività operative e di ricerca si esplicano nel campo del restauro delle opere d'arte. Le origine della sua istituzione risalgono addirittura ai tempi di Ferdinando I dei Medici. Le operazioni di restituzione eseguite a cui come dicevamo ha lavorato il favarese Mignemi sono state coordinate dal settore bronzi ed armi antiche dell'Istituto Fiorentino diretto da Maria Donata Mazzoni. L'intervento durato solo 4 mesi da luglio ad ottobre 2010 è stato eseguito da un'equip di restauratori specializzati ex allievi della scuola di alta formazione dell'epificio delle Pietre Dure. La banderuola è alta a circa 5 metri e è composta da tre elementi uniti insieme da un'asta in ferro. Una grande sfera è eseguita in due elementi in lega di rame. Un leone rampante o marzocco realizzato in lamine di rame sbalzante e giunte ai margini da piccoli ribattini. Un giglio anch'esso in lamine di rame posizionato all'appice della banderuola. In particolare la squadra di restauratori era formata da Sveta Gennai e Chiara Valcepina per il restauro della sfera. Antonio Mignemi invece si è occupato del leone rampante o marzocco ed Elisa Pucci infine per il giglio.